Ciao bella gente e benvenuti in mio canale, io sono Amale e oggi ho fatto le unghie Unghiette! Allora quindi ho deciso di fare questo video dove vi faccio vedere la nuova decorazione che ho fatto per le mie unghie io le faccio una volta ogni tre settimane, questo giro ho fatto fino a quattro settimane perché non avevo assolutamente tempo e quindi ho fatto una decorazione per le unghie che mi piace, un po' neutra con fronte alla decorazione natalizia vi lascio al video tutorial Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Io faccio due video alla settimana, mercoledì oggi e domenica, sempre li pubblico alle ore 19. Ci vediamo, ci vediamo alla prossima.